Parte mercoledì 20 aprile il ciclo di incontri Salusmea Riprendiamoci la salute. Nello scenario bucolico all'aria aperta dell'azienda agricola Deleiva va in scena un ricco calendario di itinerari dalla terra alla tavola alla riscoperta della salute come diritto universale. A promuovere il ciclo di incontri l'associazione a tutela dei diabetici di Pesaro da Bainos per una seconda edizione all'insegna della prevenzione. La prima ha avuto il successo sperato non solo in numero di partecipanti ma anche per quelli che sono stati feedback estremamente positivi di un modello di percorso di salute esperienziale che ha trovato la sua valenza proprio nel fatto che l'esperenzialità porta ad un vissuto positivo e quindi alla possibilità di adottare un nuovo modello di vita in termini salutistici. Quindi invitiamo tutti ovviamente e tutta la popolazione non solo i diabetici perché vogliamo guardare avanti vogliamo guardare alla salute in generale per tutti anche per i diabetici attraverso questo modello. Le informazioni possono essere reperite attraverso la nostra mail che è diabainopesaro.gmail.com o attraverso la nostra pagina Facebook che è Dabainos Pesaro. Non solo attività fisica e alimentazione ma anche aspetto psicologico di cosa significa per una persona che si sente gravato da una malattia cronica, cosa significa questo aspetto dal punto di vista psicologico. Perché i tre aspetti insieme del movimento dell'alimentazione e dell'aspetto psicologico rappresentano i tre pilastri sul quale agire per migliorare la situazione della malattia cronica. Il quarto sono ovviamente i farmaci e quindi tutti e quattro insieme possono dare veramente un contributo ma mentre quello dei farmaci è conosciuto ed è ad opera di noi medici, quegli altri tre sono più difficili da tirar fuori ed è per questo che questa iniziativa serve proprio per stimolare le persone a tirar fuori quello che hanno dentro quello che possono dare con la loro attività.